un pomeriggio e buonasera perché sono con tiny per lo semplice motivo questa è un'altra partita allora ho registrato già ho già fatto il castello la cittadella e tutto ciò che ne consegue ma ma ho scoperto cosa servono queste uova e dopo ve lo faccio vedere ma purtroppo a io non ho registrato o meglio ho fatto tutte le gare ho battuto perfino oxide perfino la prima pensate ed è vero ma non non si è registrato niente quindi mi ritrovo nella bruttissima situazione di dover rifare tutto quindi ho fatto una nuova partita lo speed runnata come non ci fossero domani e adesso siamo qui pronti queste uova compaiono avete vi ricordate quel uovo dorato che svolazzava nell'ultimo episodio ecco sono queste uova qua una volta che hai preso il frutto dorato che svolazza nella mappa ti compaiono queste uova se le raccogli sono il modo per sbloccare re re pollo il problema è che trovare prenderle non è facile ho già preso le altre già che c'ero e adesso poi un giorno mi farò vedere anche oh per un sfiorato per un pelo vi farò vedere dove che sono ma è come prenderle ma non adesso ho appena speed runnato come un porco e non ho proprio voglia di stare a farvi rivedere tutto oh mio dio ok un ultimo tentativo poi si parte con le gare quasi vabbè a questo punto pensiamo alle gare della cittadella dove si nasconde pinstripe che è qua sotto l'altra gara eccola la vieni qui rocca cortex signore e signori andiamo questa è una mappa difficile lo so probabilmente molti di voi vi eravate come si dice affezionati al povero pinguino ma visto che c'è anche l'evento ne approfitto per accumulare nitro queste cose qua ecco che arriva questa mappa è tremenda questo no 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 No, maledizione No, 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 devo tornà F*** Strano che sia Engine al primo posto Cioè, insomma, uno si aspetterebbe Che il castello di Cortex Ah, preso No! Oh, mio tiro! Oh, maledizione Ci siamo mancati a vicenda Piantala! Piantala! Ahah! Devo raggiungere... Devo raggiungere Engine Dammi qualcosa di... Ah, maledizione! Oh, per un pelo! Ok Si riprova! Oh, per un po' Oh Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeee.... Ja Ah... Vai, 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 vai... Oh, ah... Oh! Ma... Ui! Ui! Nooooo! Maledizione! Nooo! Nooo! Puberman! Oh, maledizione! Ho riperso malissimo! Eh... Cavolo! Sono peggiorato! Appena ho iniziato a registrare, ovviamente, perché... ...ah! Ma vai! ... ... ... ... ... Grazie a tutti. Dai, 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 dai Oh, maledizione! Ok, quello è appena esplosso! Dai, che mi serve qualcosa di buono! Come cavolo ha fatto? Non l'ho preso! No! Non ci credo! Avrei vinto! Non fossi caduto su quella di N.T. Maledizione! Oh, maledizione! Ok, grazie a tutti! Ecco Oh Sì, effettivamente Questa non è la mappa ideale Su cui fare la caccia Ai frutti Wumpa d'oro Non sono neanche Abbastanza Fra Maledizione Maledizione ancora Non sono neanche Oh, ma dai Questo è accanimento Oh Dai, ce la posso ancora fare Questa è accanimento Questa è accanimento No Liseria Mio Dio Uno Due Tre Ok 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 Ah L'ho riperso No Maledizione Come il cavolo ho fatto a mancarlo Maledizione Maledetto Vendicoot Stogliti Ok 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 Non devo Assolutamente Permettermi Errori Ok Ok Dai 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 Oh il tema apocalittico però è assolutamente fantastico hai vinto un trofeo ok e rocca cortex me la sono finalmente tolta ok questo se non sbaglio è il laboratorio di engine ah ah quanti flashback perché era qui che l'unica parte che avevo registrato partiva cioè ho registrato poco giusto un paio di gare è stato vale rifare tutto da capo no 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 tenermelo il fuoco blu no basta no 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 mi era riuscito benissimo prima meno male che avevo ancora la la maschera di ritorno in campo no 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 ho no 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 Oh, mi sa che non ce la faccio manco Per scherzo Ok, almeno Arrivare Quarto Oh, almeno Quarto, almeno parto in prima fila Allora Quanto mi piacciono i robot di Crash 2 e 3 In riparazione Ok Ecco Quanto mi piacciono i robot di Crash 2 e 3 Quanto mi piacciono i robot di Crash 2 e 3 Quanto mi piacciono i robot di Crash 2 e 3 Perchè non riesco Ecco Troppo gente troppo vicina Ok 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. No, 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 no della cittadella è andata. Adesso mancano solo due piste. Via Aria Calda, che è questa, che è la pista di Pinstripe, e la stazione di Nitros Oxide. Quelle sono le ultime due piste, e le dovremmo fare entrambe due volte. Questa adesso, e poi con Pinstripe, la stazione Oxide per la coppa, e poi per affrontare Nitros Oxide. Eccola qua. Questa è una delle mie piste preferite, ma... ma... è anche una delle più... difficili. Il fatto è che questa mappa a me piace tantissimo, perché è il... sogno proibito... Degli... oh... 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 oh diciamo questa normalmente è questa mappa è il sogno per gli amanti dell'edera ma mamma mia come me ma è anche difficile infatti al primo posto c'è uno dei personaggi con le derapate migliori polar e come si può notare ah l'ho usato al momento sbagliato no oh E vabbè però Dalli schiaccia piccola Maledizione Se non avesse avuto quel missile Quando l'ho superata Vabbè Dai 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 No, 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 non ce l'ho fatta Chi è qua? Maledetta Coco Mi dispiace Stavolta non mi missili Dai, 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 dai No, 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 no Sono sceso SESTO Al penultimo giro No Oh Oh Presa E preso E ho anche i missili Nel caso qualcuno Avesse Idee furbe No 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 Avveno ancora i missili Avveno ancora i missili Avveno ancora i missili Oh mamma Basta con quelle maledette Bombe Oh Oh No 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 Prendila 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 Presa No Perché non riesco a prender Dai 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 Oh mio dio Ho fatto un casino lì sul finale Ma ce l'ho fatto Ho 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 Oh Sì E ora è giunto il momento Complimenti Hai vinto un trofeo Dell'ultima coppa La sedicesima Ovvero La stazione Oxide Questa Eeeh Conviene impararla bene Perchè è difficilissima Perchè è difficilissima Perchè è difficilissima Oh L'ho superato L'ho superato L'ho superato L'ho superato L'ho superato Si va beh però Oh Oh Daiiii 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 Piantala Oh Oh vabbè dai Hai appena lanciato Questa Who ieri Sì U Dec preso il fatto che si sia praticamente suicidato su quel backer mi ha salvato la gara probabilmente sì perfetto e ora pinstripe tocca a te è l'ultimo trofeo mi dispiace Dingo Dyle ma hai fatto l'errore che ti ha fatto perdere quello di gareggiare e tu saresti un pilota? lascia perdere se vuoi sfidare Oxide prima te la dovrai vedere con me sai? sono il campione di questa pista e salverò io il mondo per una bella sommetta ovviamente ah beh pensala come vuoi ma mi dovrai dare una bella chiave pinstripe pinstripe minstripe pinstripe minstripe pinstripe 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 questa èamora sono l'abbiamo da un po' tutto che ti èi che ti Per fare attenzione perché Lancia bombe Sembra solo all'indietro, però Oh 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 Per fare attenzione perché Per fare attenzione perché C'è a dire che questa concentrazione la dovrò usare Nella gara contro Oxide Che quello è tremendo È assolutamente tremendo Ma No, 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 oh, meno male No, 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 no no E adesso Oxide. Ma non ti andrà così bene con Oxide. Una chiave per i tuoi problemi. Ragazzi. Ci siamo. Bene, il vermiciatto lo ha raccolto tutti i trofei ed è il campione del mondo. Perché ci hai messo tanto? Adesso vedrai chi è davvero il pilota più forte. Io ovviamente. Ok. La sfida finale. Oxide. In persona. Il maledetto Baro. Visto perché vi dico che è problematico? Oh, meno male. Meno male, l'altra volta avevo dovuto fare tutta la gara dietro di lui ed ero riuscito a superarlo solo all'ultimo. Tutto il tempo a schivare le sue, i suoi backer e le sue trappole. A ver. Vabbè. Sì, sì, sì! Cavolo, quella maschera Mi aveva, mi ha davvero Salvato Devo fare attenzione a non prendermi le mie di trappole, però Ehi Non posso permettermi di andare a sbattere da nessuna parte No! Oh, meno male Si sta avvicinando troppo La cosa non va per niente bene Almeno essendo l'ultimo giro Mi devo preoccupare Solo delle trappole già messe e non di ricordarmi dove infilerò Quelle Quelle in questo turno Non devo beccare niente Niente Non devo beccare niente E' vittoria! Pegati questa Oxide Ti ho battuto di nuovo Non mi dice neanche il suo tempo? Quattro minuti! L'ho battuto di ben dodici secondi Perfetto! Assolutamente perfetto! E stavolta sto registrando Non posso aver perso Non perdo mai! Che vergogna! Diventerò lo zimbello di tutta Gasmoxia! Bene! Il tuo stupido pianeta rimarrà florido! Almeno non ti sei preso tutte le mie reliquie del tempo Finché non le avrai tutte E non mi sfiderai Non potrai sostenere di essere tu quello più forte Questa non è l'ultima volta che affronterai Nitrous Oxide Ci rivedremo ancora! Bene! Detto questo io vi saluto E i titoli di Coda li farò vedere in un altro video Mi raccomando Like, Subscribe e tutto il resto Sapete le tiritele Ciao!